Ancora una volta Renzi, questo governo e soprattutto il Partito Democratico si dimenticano della nostra provincia. In questi giorni è arrivato in aula il Senato, votato ancora una volta con la fiducia al governo, un decreto che prevede tutta una serie di interventi ai vari territori in Italia, interventi che vanno ai lavoratori socialmente utili della Calabria, interventi che vanno al Comune di Roma, interventi che vanno alla Regione Campania per il trasporto delle ecoballe in giro per l'Italia, interventi che vanno a tutti, a pioggia, a pioggia sul territorio, il classico decreto che serve come marchettone elettorale di questo Presidente del Consiglio. Il problema è che ancora una volta il PD si è dimenticato della nostra provincia, niente per il Ponte della Becca, niente per quanto riguarda tutte le richieste che sono arrivate dal territorio, che sono arrivate dal sottoscritto, che sono arrivate anche dagli altri parlamentari che non fanno parte della Lega, niente per quanto riguarda il casello di Binasco, che come ben sappiamo provoca ingenti danni e soprattutto problemi alla circolazione. Ancora una volta la domanda che facciamo a Renzi è, vieni sul territorio, vieni e prometti, illudi i cittadini pavesi e poi alla fine, quando è il momento di fare atti concreti, non fai niente.